Io vi taglio ancora qualche momento per presentare questo progetto, visto che i colleghi di Ispra oggi sono impegnati in un'attività proprio prevista anche dal progetto di networking, quindi di collegamento tra diversi progetti live, quindi sono in Sardegna per la chiusura di un progetto live Resmaris. Il progetto è un progetto che è appena iniziato, fine 2017, quindi andrà avanti ancora per tutto il fine 2020. È un progetto che vede Ispra, capofila, ARPAT partner, uno dei partner. È un progetto che ha lo scopo principale di migliorare la governance italiana sui trapianti di Posidonia, promuovendo la conoscenza e la consapevolezza su questo tema, coinvolgendo direttamente gli stakeholders e a supporto anche della procedura e vie previste in questi casi. Quindi una delle azioni, il progetto si articola in cinque azioni fondamentali, quindi possiamo definire un progetto di governance, è un live governance, principalmente governance e comunicazione. Quindi l'azione della governance è la prima azione predominante in cui si vengono coinvolti sia stakeholders politici, quindi che sul territorio hanno il potere decisionale, le regioni in primis, i comuni, quindi attraverso delle interviste strutturate o semistrutturate, ma anche un target molto più ampio rappresentato da cittadini, associazioni, professionisti che comunque hanno interesse in questo argomento attraverso le interviste un pochino diverse che definiamo non strutturate. Sempre la parte di governance riguarda l'analisi dei procedimenti via che hanno riguardato i casi studio che prendiamo in considerazione nel progetto, che sono principalmente quattro, adesso vediamo quali sono, ma non è detto, stiamo pensando anche a ampliare un po' la casistica, soprattutto a livello di regione toscana. La regione toscana non è un partner ufficiale di progetto, ha mandato avanti la sua ARPA, ma è fortemente interessato a questo progetto, ai risultati di progetto, ha dato un forte endorsement al progetto e quindi attraverso l'analisi di tutti i procedimenti, grazie anche alla collaborazione con il Ministero, la reperibilità sui vari siti, quindi del Ministero, di Ispra e in questo caso anche di ARPAT, è stato necessario reperire tutto il materiale, ricostruire tutto l'iter dei processi di via, le verifiche delle ottemperanze, tutti gli aspetti legali, amministrativi, delle autorizzazioni ai trapianti di questi quattro casi studio, perché uno dei progetti, degli output fondamentali di questo progetto vogliono proprio essere delle linee guida di riferimento per la procedura via, che diano poi indicazione per i piani di monitoraggio e per le prescrizioni. Quindi un'altra azione importante è il monitoraggio della performance dei trapianti Posidonia Oceanica esistenti, abbiamo scelto questi quattro casi studio, l'area portuale di Piombino, Civitavecchia, Ischia e Augusta. Su questi quattro siti principali, però probabilmente amplieremo anche con altre casistiche, anche a livello toscano sicuramente, sono previste intanto due campagne di monitoraggio, una partirà tra qualche giorno e una nell'estate prossima, del 2019 e queste campagne ci servono per la definizione esatta di protocolli di monitoraggio e per la raccolta di dati aggiornati sulla performance del trapianto. Quindi andiamo a vedere in questi casi cosa è successo, quali sono state le tecniche adottate e quali sono i risultati che troviamo adesso. Tutto questo, quindi tutta la parte della governance, le analisi delle vie e soprattutto anche i dati che raccoglieremo, vanno a confluire nell'obiettivo fondamentale di aumentare l'efficienza della pianificazione e del controllo. Con la realizzazione di quella che definiamo PTVP, cioè la Posidonia Transplanting Web Platform, una piattaforma online, collaborativa, smart, che deve raccogliere appunto in un sistema più possibile dinamico e relazionale, ma di facile utilizzo perché deve essere, il nostro scopo è quello che dovrebbe essere utilizzabile da tutti, quindi sia dal proponente che si trova davanti alla problematica di dover dare delle prescrizioni, quindi utilizzata dagli esperti di via per tutta la valutazione della procedura, utile alle istituzioni, ma anche a questo pubblico più ampio che possa e voglia seguire tutta l'operatività del trapianto nelle varie fasi. L'obiettivo anche importante del progetto di sviluppare buone pratiche replicabili all'interno di tutto il bacino mediterraneo si esplica attraverso l'azione B4 appunto di trasferibilità e replicabilità dei risultati del progetto LIFE che era già stato accennato anche stamattina, si tradurranno nella redazione di manuali tecnico-scientifici e anche in corsi di formazione. E' proprio questa azione, questo obiettivo che noi vediamo insieme sia ISPRA che ARPA, ci vediamo proprio inseriti noi come agenzie, ma vediamo bene l'inserimento del progetto all'interno proprio del sistema nazionale di protezione ambientale dove potremmo pensare di organizzare anche dei tavoli o gruppi di lavoro per l'implementazione dei sistemi e degli strumenti per la pianificazione e il controllo dei rimpianti di posidonia che possano aumentare l'efficacia e l'efficienza dei processi di controllo e rendere maggiormente omogenea la valutazione dei risultati dei trapianti e della verifica delle ottemperanze e delle prescrizioni che erano contenute nelle via. L'ultimo obiettivo, lo passo veramente al volo ma non meno importante, l'avevo detto all'inizio, è quello della comunicazione, lo facciamo, cerchiamo di farlo in maniera puntuale attraverso i canali che tutti ben conosciamo, social network, organizzazione di eventi, di materiale divulgativo, di documentari, video. e concludendo velocemente non posso non chiudere con questa slide che ricorda tutti gli altri partner di progetto di Ispra e Arpat all'interno del sistema, l'ho già detto ma devo ricordare il CNR, le due università Tor Vergata e Palermo, l'autorità di sistema portuale del Martirano settentrionale e poi le società Setin e Vesenda che ci supportano con le azioni di realizzazione del sito e di tutto proprio la gestione del progetto. Vi volevo salutare con questo brevissimo video di lancio del progetto, veramente un minuto ma ci ho già provato prima, non si sente l'audio quindi andatelo a cercare su YouTube, grazie. Grazie, grazie. Grazie.